Continua la riorganizzazione della sanità in Sicilia, stavolta toccherà l'area dell'emergenza neonatale che sarà riorganizzata in una rete regionale secondo i tre bacini territoriali della Sicilia occidentale, orientale e centrale. L'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino ha firmato il primo dei decreti attuativi che prevede la reingegnerizzazione e l'ottimizzazione dei servizi di trasporto emergenza neonatale assistito materno. La riforma contenuta nel provvedimento prevede cinque punti di emergenza neonatale assistito materno in tutta la Sicilia, secondo una suddivisione territoriale. Per l'area occidentale ci sarà il presidio ospedaliero di Villa Sofia a Palermo, che coprirà le province di Agrigento, Palermo e Trapani. Nell'area centrale l'Umberto I di Enna per le province di Caltanissetta ed Enna. Infine per la Sicilia orientale il santo bambino di Catania per Siracusa, Ragusa e Catania naturalmente, il presidio ospedaliero Barone Romeo di Patti e il Martino di Messina per tutta l'area messinese. Questo provvedimento, ha annunciato ieri l'assessore Borsellino, interviene ad ottimizzare un percorso già avviato da anni in Sicilia nelle emergenze neonatali e materne, che ha prodotto nell'ultimo anno 2014, fa sapere l'assessore, circa 90 trasporti di neonati dai centri di primo livello verso il centro stenne di Catania, circa 150 verso quello di Palermo e circa 64 verso quello di Messina e circa 40 verso lo stenne di Enna. A partire da quest'anno verrà garantito, ha assicurato Borsellino, attraverso la più performante dotazione strumentale, affidata ai responsabili dei centri stenne.